Poesia araba, cortigiana, d'amore, desiderio, desiderio e ancora desiderio. Come va all'università? Non è facile, ma va bene. Però ci sono solo ragazze. Ah sì? Sono sofisticate, illegati. Di dove sei? Di Tunisi. Parli benissimo, francese. Tu parli arabo? È un manuale di erotologia araba, quindi per il pene si può dire El de Kek, il battitore, El Ha Kek, colui che si struscia. Questa non è letteratura. Prendetevi il tempo di assaporare lentamente l'intenso erotismo di questi versi. Non fa per lei il corso della signora Morel? Devo pensarci ancora. Potresti farmi visitare qualcosa? Visitare cosa? Beh, Parigi, no? Il bacio migliore è quello impresso sulle labbra umide. Non dobbiamo andare di fretta. Se tutto questo è nuovo per te, possiamo fare con calma. Ma che dici? Non c'è posto qui per gente come me. Il suo atteggiamento dà soddisfazione a quelli che vogliono la sua sconfitta. Tu puoi sempre impararlo, non è troppo tardi. Quando eri piccolo ti parlavo in arabo e tu lo capivi bene. Farà. 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 Farà! 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 Grazie a tutti.